Amici di CacciaMercato.com, eccoci qui in piazza San Carlo. I passeggiamenti sono esplosi, c'è già grande entusiasmo e il flusso di gente è destinato ancora a crescere. Il popolo di Bianconero non si accontenta, non sarà mai una sorpresa, anche per quanto possa essere atteso. Il sesto scoperto di Pira va passeggiato, va onorato e poi si penserà a che i tifosi sono entusiasti e prevista una domenica sera assolutamente di forza qui a Torino, che vi commenteremo passo dopo passo, sempre su calciomercato.com, continuate a seguirci.